Buongiorno a tutti, studio e scrivo su tematiche vitalizzazione, pace eccetera. Credo che la cosa che secondo me, anche se ce la diciamo, ma che veramente sotto la ruffiamo è che mai la guerra, come storicamente si è disegnata, sia l'argomento al centro ormai delle logiche, delle scelte eccetera. La guerra è il modo che ha in parte generato la crisi economica e strutturale ed è il modello con cui teoricamente il capitale transnazionale vorrebbe o proporrebbe riuscire dalla crisi. Credo che mai come negli ultimi mesi la concezione stessa che i conflitti internazionali e le crisi internazionali devono essere superati sia un argomento ormai talmente legittimato. Avete visto che anche rispetto alla questione della crisi in Crimea, della crisi europeina, immediatamente e tranquillamente Unione Europea e Allianza Atlantica, qui sinceramente nonostante i membri della Nato e i membri dell'Unione Europea non coincidano e nonostante i trattati internazionali costitutivi della Nato e dell'Unione Europea non ci abbiano niente a che spartire, però poi di fatto direi che è quasi impossibile capire quando finisce l'una e quando finisce l'altra. La logica della risposta belga, di inventarsi anche l'articolo 3 della Nato che non dice assolutamente che il momento in cui un paese distante che non è neanche membro della Nato, se c'ha problemi di crisi interna, di secessione eccetera, tu utilizzi la forza militare per dire che questo è passato. E tra l'altro non è che la situazione di crisi si è modificata, io vi invito a leggere quotidianamente la rassegna stampa che fanno le forze armate statunitensi attraverso il loro sito che è www.stripes che secondo me, lo dico con tutta sincera, lo dico da antimitarista e non violento. Cioè per me è il Vangelo quotidiano, nel senso che se vuoi capire quello che succederà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, lo devi leggere quotidianamente perché è veramente la Bibbia del pensiero di guerra. Quotidianamente le forze armate statunitensi, europee o Nato stanno fornendo enormi quantità di aiuti umanitari non letali, ma oggi, notizie di stamani, anche di armi leggere, perché ci stavano anche queste scadette, per dire che ormai dietro la parola umanitaria c'è di tutto e poi quando non si può non so nascondere che partono anche i carri armati, gli aiuti umanitari diventano i libri, che vengono trasferiti costantemente. Grazie